Buongiorno, sono Genovese, dirigente di ricerca dell'INRIM, dove coordino un gruppo di ricercatori che studia i fondamenti della meccanica quantistica e le applicazioni alle nascenti tecnologie quantistiche. Alcune proprietà specifiche dei sistemi quantistici, in particolare le correlazioni che si sviluppano tra questi sistemi, quali l'entanglement, sono stati per lungo tempo una fonte di dibattito sui fondamenti della meccanica quantistica, su alcune peculiarità di questa teoria, quali la non località quantistica studiata dalle diseguaglianze di Bell e altre proprietà abbastanza particolari. Ma recentemente sono anche diventate uno strumento per creare nuove tecnologie, le tecnologie quantistiche che vanno dal calcolatore quantistico all'imaging quantistico, al sensing quantistico, eccetera. Quindi oggi vi vorrei raccontare un pochino più in dettaglio queste proprietà dei sistemi quantistici e queste nascenti tecnologie. Allora, come sapete bene, la meccanica quantistica descrive i sistemi microscopici, in realtà riteniamo che in qualche modo sia la teoria fondamentale della fisica all'interno della quale si devono poi inserire tutte le altre teorie, ma è una teoria che ha anche alcune proprietà abbastanza particolari, peculiari, che in qualche modo sfuggono alla nostra intuizione e che descrive un mondo che è alquanto diverso da quello a cui noi siamo abituati che è descritto dalla fisica classica. Come una delle proprietà più specifiche di questa teoria è che ho un'evoluzione di carattere probabilistico, cioè non posso affermare con esattezza come evolverà un sistema, ma posso solo attribuire delle proprietà, delle probabilità di evoluzione al sistema stesso. In particolare non ho delle traiettorie, non posso definire delle traiettorie precise per le particelle e questo è legato al fatto che un'altra proprietà caratteristica della meccanica quantistica è che non posso misurare con precisione arbitraria, neppure in linea di principio, delle osservabili incompatibili, come ad esempio la posizione e la quantità di mondo. La meccanica quantistica ovviamente è una teoria matematicizzata, c'è una descrizione precisa in termini matematici, ovvero gli stati quantistici sono dei vettori in uno spazio vettoriale, uno spazio di Hilbert, quindi può essere uno spazio bidimensionale quando descrivo lo spin di una particella come l'elettrone, che può essere un mezzo o meno un mezzo, uno spazio infinito dimensionale quando considero ad esempio la variabile di posizione. Diciamo che gran parte delle peculiarità della meccanica quantistica derivano dal fatto che possa avere sovrapposizioni di diversi stati all'interno di questo spazio, quindi ad esempio se considero la polarizzazione di un fotone, che può essere orizzontale o verticale, posso avere una situazione in cui il fotone è descritto da uno stato in cui c'è una certa probabilità, modulo a quadro di trovare la polarizzazione orizzontale, o modulo a b quadro di trovare la polarizzazione verticale. Prima della misura, quello che ci dice la meccanica quantistica, è che il nostro fotone non ha una polarizzazione definita. E come discuteremo meglio in seguito, non perché io ignori qualcosa, ma perché effettivamente questa proprietà non è definita, solo misurandolo, la funzione d'onda collassa in una delle due possibilità, e quindi troverò il fotone o con polarizzazione orizzontale o con polarizzazione verticale con una certa probabilità. Similmente quando voglio misurare un osservabile, quindi un operatore che può corrispondere allo spin, può corrispondere alla posizione, questo è dato dal valore medio della funzione d'onda, cioè del vettore di stato del nostro sistema. Allora, tutte queste proprietà, come dicevo, descrivono in particolare il sistema microscopico, i sistemi microscopici, dalle molecole, gli atomi, la fisica nucleare e le particelle. Come vi dicevo prima, nel mondo della meccanica quantistica, quindi non ho traiettori, un povero portiere non potrebbe identificare esattamente dove andrà il pallone calciato da un calciatore quantistico. E un pallone quantistico esiste, ad esempio il fullerene, che è costituito da 60 atomi di carbonio, quando è inviato a una doppia fenditura, quello che si vede dopo la fenditura non è il sovrapporsi delle traiettorie che avrebbe un pallone normale, che attraverserebbe quindi o uno o l'altra fenditura, ma quello che si vede è una figura di interferenza, come un'onda. Quindi i singoli sistemi quantistici, come in particolare il fullerene, ma anche qualsiasi particella quantistica, il fotone, l'elettrone, vengono rivelate sempre come singole particelle, ma si evolvono con una teoria che è legata più all'evoluzione di un'onda. Allora, quando si vuole... Quindi, adesso ogni tanto faccio qualche breve scursus matematico, ma che non è strettamente essenziale poi per comprendere il resto, ma vista l'audience mi sembra doveroso introdurre qualche elemento più matematicizzato. Allora, come dicevo, vogliamo quindi descrivere dei campi che la teoria poi fondamentale che coppia la meccanica quantistica con la relatività ristretta e la teoria quantizzata dei campi che descrivono tutte le particelle fondamentali, quindi almeno in linea di principio, come un limite non relativistico, tutto deriva quindi da queste che sono le teorie fondamentali. Allora, quello che devo fare in meccanica quantistica parto da quella che sono i campi classici per i fotoni, quindi per la radiazione elettromagnetica, questo è abbastanza evidente, sono il campo elettrico e magnetico che sono accoppiati nel vuoto e danno origine alla radiazione elettromagnetica, sostituendo i pesi delle varie componenti delle onde piane che danno la rappresentazione di Fourier con degli operatori che creano e distruggono il singolo quanto, quindi nel caso il singolo fotone è corrispondente a un dato vettore d'onda e a una data frequenza. L'energia è sostanzialmente data dal numero di fotoni per l'energia del singolo fotone, che per la relazione di Planck è accattagliato per la frequenza, più una componente del vuoto. Uno stato di n fotoni sarà dato quindi dall'operatore che crea i fotoni applicato n volte all'uoto. Allora, quindi, quando andrò a fare esperimenti, che poi descriverò un pochino più in dettaglio, nel seguito con fotoni, ma eventualmente anche con altre particelle, quello che faccio è misurare alla fine la presenza di queste particelle e fare eventualmente delle misure di correlazione, in particolare nel caso dei fotoni, quindi della luce, posso inviare la luce a un beam splitter e fare delle misure a posteriore delle correlazioni. Se invio un singolo fotone, quello che mi aspetto è che il fotone andrà o a un rivelatore o all'altro. Questa è una proprietà tipicamente corpuscolare, una radiazione elettromagnetica classica si dividerebbe in parti arbitrariamente più piccole, quindi avrei sempre correlazione. Invece il singolo fotone è l'elemento fondamentale, il quanto fondamentale, che non può essere scisso ulteriormente. E quindi la funzione di correlazione sarà zero se invio un singolo fotone, se è n uguale a uno. Invece stati classici sono descritti le stati di sovrapposizione di molti fotoni, in particolare degli stati che descrivono i laser, sono i cosiddetti stati coerenti, che sono una sovrapposizione con statistica poissoniana di numerosi fotoni, e mi danno invece una funzione di autocorrelazione per quanto basso sia il livello di illuminazione che è sempre pari a uno. Molti degli esperimenti di cui parlerò in seguito richiedono la generazione di stati di luce o a singolo fotone, o con queste proprietà di cui poi parleremo, che sono gli stati entangled. Per produrre questi stati si utilizzano dei mezzi cosiddetti non lineari, cioè dove la luce interagendo col mezzo produce delle luci, diciamo dell'irradiazione luminosa con delle proprietà specifiche. Ad esempio nella cosiddetta parametri down conversion un fotone di frequenza maggiore incide in un cristallo, non lineare, sono dei cristalli, ad esempio come il beta borato o altri materiali di questo tipo, in cui questo fotone interagendo col mezzo produce due fotoni di frequenza inferiore ma tali che sia conservata l'energia, cioè la somma delle frequenze dei fotoni prodotti e la frequenza del fotone incidente e la quantità di moto, cioè la somma dei vettori d'onda dei fotoni prodotti e il vettore d'onda del fotone incidente. Inoltre sono emessi allo stesso tempo, entro tempi brevissimi, si parla di femtosecondi. Allora, quindi questo sarà uno dei mezzi di cui parleremo in seguito per andare poi a studiare queste proprietà, ma torniamo adesso a queste proprietà. Allora, dicevo, una delle proprietà più peculiari della meccanica quantistica è il principio di sovrapposizione, cioè la possibilità di avere situazioni descritte da stati che sono la sovrapposizione di due possibilità. Ad esempio, se considero un fotone, un elettrone, posso avere una situazione di sovrapposizione una posizione di due funzioni d'onda corrispondente alla presenza di questa particella in due stanze differenti. Allora, prima della misura, io non posso sapere, in realtà è proprio una proprietà intrinsella del sistema, non è dovuta al fatto che io ignori qualcosa, in quale stanza si trovi il mio oggetto quantistico, ma avrò soltanto una probabilità di trovarlo nella prima stanza e una certa probabilità di trovarlo nell'altra data dal modulo quadro della funzione d'onda corrispondente alla prima stanza o alla seconda stanza. Quando, estendo questo principio di sovrapposizione, state molte particelle, ritrovo il cosiddetto concetto di entanglement, cioè situazioni in cui può essere definita la proprietà totale del sistema, in questo caso lo spin totale che è zero, ma non sono definite prima della misura le proprietà del singolo sistema. ovvero il primo elettrone può avere spin un mezzo, il secondo meno un mezzo o viceversa. Lo spin totale è comunque zero, ma prima della misura lo spin del singolo elettrone non è definito. Solo andando a effettuare la misura collasserò la situazione in cui il primo elettrone si trova con spin un mezzo e il secondo con spin meno un mezzo. Si nota che questo è indipendente dalla distanza, cioè se io genero i due elettroni, poi i due vanno molto lontani l'uno dall'altro, nel momento in cui misuro la proprietà del primo elettrone fisso anche istantaneamente la proprietà del secondo elettrone. Iniziamo quindi qui a vedere uno di questi primi problemi che poi analizzeremo più in dettaglio della meccanica quantistica. Cioè questo fenomeno che dà un'idea di non località, cioè in quanto la misura di un elettrone implica anche il collasso della funzione d'onda dell'altro elettrone per quanto distante. La stessa cosa vale ovviamente anche per altri sistemi. Ovviamente queste correlazioni non sono anche in meccanica, nella situazione della fisica classica abbiamo correlazioni. Ad esempio Bell faceva l'esempio divertente di un suo collega che si chiama Bertelman che esiste realmente ho anche incontrato affermando che Bertelman ha l'abitudine di mettere sempre due calzini di colore differente. Uno viola e l'altro arancione. Ora io però non posso sapere se quel mattino ha messo l'arancione a sinistra e il viola a destra o viceversa. Ma nel momento in cui Bertelman arriva io vedo il primo calzino posso sapere immediatamente anche il valore del secondo calzino. Allora questa è ovviamente una proprietà di tipo classico. Cioè nel momento in cui io osservo un calzino inferisco anche quale sarà il colore dell'altro. Ma è una proprietà che esiste a priori. Cioè io non sono in grado di affermare se quel giorno Bertelman ha il calzino viola a destra o a sinistra perché ignoro qualcosa. Ma è una proprietà ben definita anche a priori. In meccanica quantistica non è così. nella versione consolidata della teoria attuale il fatto che l'elettrone non abbia io non sia in grado di dire se ha spino un mezzo o meno un mezzo non è dovuto al fatto che io ignori qualcosa ma al fatto che prima della misura effettivamente questa proprietà non può essere attribuita. Quindi molto diverso da queste che sono invece correlazioni di tipo classico. Ma queste correlazioni fino a che livello si estendono? Abbiamo detto che sono tipiche dei sistemi quantistici quindi dei sistemi microscopici quali gli elettroni i fotoni eventualmente gli atomi. Abbiamo visto però che si estendono anche a oggetti già un pochino più grandi come i fullareni costituiti da 60 atomi di carbonio. Quindi la questione è a che punto avviene la transizione tra un mondo quantistico descritto da queste proprietà della meccanica quantistica è il mondo classico in cui invece ho delle proprietà ben definite. Bertelman ha il calzino viola o arancione anche prima che io lo servi. Semplicemente io ignoro quale sia la situazione. Allora questo può essere far affrasato ad esempio in un esperimento ed anche un esperimento proposto già da Schrödinger molti anni or sono e che ha raggiunto una certa fama quella del cosiddetto gatto di Schrödinger. Qual è l'idea? Ho un sistema quantistico che all'inizio si trova in una sovrapposizione e un apparato di misura. L'apparato di misura interagisce con il sistema se anche l'apparato di misura è descritto dalla meccanica quantistica quindi un sistema quantistico il tutto avviene in maniera lineare quindi l'apparato di misura si correla con il sistema. Supponiamo che l'apparato di misura se ha misurato la proprietà 1 non faccia nulla mentre se ha misurato la proprietà 2 rompe una fiala di veleno dentro una scatola in cui si trova anche un gatto quindi nel caso che la proprietà 1 il gatto resta vivo nel caso in cui invece fosse osservata la proprietà 2 il gatto muore. Allora se anche il gatto è descritto dalla meccanica quantistica il tutto avviene in maniera lineare quindi avrai una sovrapposizione alla fine di gatto vivo e gatto muore. Ovviamente nessuno di noi ha mai osservato nulla del genere in meccanica nella situazione che noi osserviamo quindi quella descritta dalla meccanica classica i sistemi o sono vivi o sono morti la sedia o in questa stanza o in un'altra stanza non posso avere situazioni indefinite quindi ci deve essere una transizione tra meccanica quantistica che descrive i sistemi microscopici e meccanica classica che descrive i sistemi macroscopici ma come avviene questa transizione? Allora questo è stato un oggetto di dibattito per lungo tempo molti scienziati importanti ci sono dedicati in particolare Einstein che disse quella famosa frase che poi viene riassunta in Dio non gioca dadi col mondo la frase era un pochino più lunga come vedete da questa slide ma comunque quello che Einstein intendeva dire è che lui in qualche modo non accettava questa idea dell'evoluzione probabilistica del fatto che la teoria fondamentale della fisica fosse una teoria che non avesse specificate tutte le proprietà dei sistemi ma attribuisse soltanto delle probabilità all'osservare queste quantità questo venne ulteriormente elaborato e sostanzialmente al momento ci sono diversi modi di trattare questa transizione tra il mondo classico e il mondo quantistico allora una prima possibilità che come vedremo venne suggerita dallo stesso Einstein è che in qualche forma la meccanica quantistica non sia la teoria fondamentale ma sia una teoria perfettamente funzionante abbiamo un enorme mole di dati sperimentali che la confermano ma che possa esserci una teoria più generale in cui la meccanica quantistica è inclusa in cui tutte le proprietà siano ben definite da delle variabili che però noi ignoriamo e quindi la meccanica quantistica sia in qualche modo un limite di questa teoria più generale con delle variabili a noi nascoste che invece è di carattere deterministico quindi questa è una possibilità un'altra possibilità è che in realtà il mondo microscopico sia effettivamente descritto dalla meccanica quantistica ma avvenga a un certo punto una transizione tra il mondo quantistico e il mondo classico attraverso il collasso della funzione d'onda questo collasso va però descritto in maniera matematica precisa e quindi questo porta dei modelli di collasso infine la terza possibilità è che la meccanica quantistica sia la teoria fondamentale che il mondo sia effettivamente descritto dalla meccanica quantistica ma questo ci conduce inevitabilmente allora a ritenere che tutti i sistemi siano descritti dalla meccanica quantistica anche quelli macroscopici e quindi le proprietà quantistiche si propaghino anche agli oggetti macroscopici la domanda allora a questo punto è ma io non osservo mai una situazione in cui il gatto non è né vivo né morto osserverò sempre chiaramente il gatto vivo o il gatto morto bene se la risposta a questa obiezione all'interno di queste diciamo interpretazioni della meccanica quantistica è che in realtà anch'io in qualche modo a un certo punto mi ritrovi correlato e quindi ci sarà un me che osserva il gatto vivo un me che osserva il gatto morto ma io vivo in uno di questi multi universi che continuamente si splittano fra di loro e quindi la mia percezione appartiene soltanto a uno di questi infiniti multi universi in cui si realizzano tutte le possibilità della meccanica quantistica infine un'ultima possibilità che si chiama il cubism quantum bianism quindi i cubisti in questo senso non sono quelli nei pittori quelli delle discoteche ma i cubisti sono gli aderenti al quantum bianism in cui l'idea è quindi di abbandonare la concezione che le teorie fisiche permettano di comprendere la realtà ma di intendere la meccanica quantistica come una teoria che ci permette di costruire una descrizione logica dell'informazione di cui noi disponiamo sulla realtà se questa è una risposta di carattere più filosofico ovviamente rispetto alle altre tre risposte che sono di carattere più fisico e quindi non entro maggiormente nei dettagli ma torniamo quindi a queste tre possibili risposte allora abbiamo detto una delle possibilità è che ci sia una transizione tra la meccanica quantistica che descrive il mondo microscopico e la teoria classica che invece descrivono il mondo macroscopico quindi la funzione d'onda che può essere in sovrapposizioni a livello microscopico collasse in una di queste sovrapposizioni a livello macroscopico ad esempio una delle teorie che hanno ottenuto maggiore successo anche in qualche modo la prima essere ben matematicizzata è stata proposta da tre fisici italiani Girardi, Rimini, Weber negli anni 70 e propone che ci sia una piccola probabilità che la posizione di un singolo sistema fisico collassi in un valore ben preciso questa probabilità è molto piccola per il singolo sistema quindi per la singola particella ma quando ho moltissime particelle con un sistema macroscopico quindi quando parlo del numero di Avogadro 10 alla 23 atomi devo moltiplicare questa probabilità per questo numero enorme e quindi la probabilità di collasso della singola particella che però conduce con sé il collasso dell'intero sistema ritornando all'esempio di prima se ho la sedia che è in una sovrapposizione tra l'essere qui e in un'altra stanza appena il singolo atomo della sedia collassa per essere presente in una delle due stanze collassa la funzione d'onda dell'intera sedia all'interno di quella stanza e dato che la sedia ha un numero di atomi enorme sui 10 alla 25 il collasso è rapidissimo quindi anche se la probabilità di collasso è di 10 alla meno 17 al secondo ovviamente se moltiplico per 10 alla 25 la probabilità di collasso è rapidissima in termini di tempi estremamente brevi se ho il singolo elettrone invece la probabilità di collasso è estremamente bassa e può restare in questa sovrapposizione il problema di problema in fondo è anche il punto di vista interessante per una teoria scientifica di questi modelli e che portano anche ad altre proprietà in particolare sembra inevitabile che modelli di questo tipo portino a non conservazione dell'energia in pratica questo collasso produce energia e quindi in qualche modo riscalda anche se minimamente il sistema ma allora posso andare a cercare questo effetto e ci sono diverse possibilità che sono state studiate ed è un articolo di rassegno già di qualche anno fa e questi erano gli ordini di grandezza che allora mancavano per eventualmente poter osservare questo fenomeno quindi erano ancora molti ordini di grandezza al di sopra della possibilità di osservarle ma in alcuni casi non così distante nel frattempo negli ultimi dieci anni la situazione è evoluta e alcuni di questi modelli sono già anche stati escluse dall'esperimento un'altra possibilità come vi dicevo è che la meccanica quantistica non sia la teoria fondamentale ma vi sia una teoria più generale di cui la meccanica quantistica in qualche modo è un caso particolare ad esempio sappiamo benissimo che la teoria della gravità attuale è la relatività generale ma per campi gravitazionali abbastanza piccoli vale la teoria newtoniana quindi è già capitato in passato che una teoria proposta a un certo punto diventi un caso particolare di una teoria più generale in particolare Einstein Podolsky Rosen già nel 35 iniziarono a ragionare e a durre ad alcuni argomenti sul fatto che la meccanica quantistica possa non essere una teoria completa in particolare introdussero quello che loro chiamarono un elemento di realtà dicendo che se ho un'osservabile fisica a cui posso attribuire un valore senza interagire col sistema allora questo è un elemento di realtà fisica cioè una proprietà che esiste che va attribuita al sistema indipendentemente dall'osservatore e deve essere reale l'altra ipotesi che fecero è che la teoria fosse locale cioè che non potesse essersi una trasmissione di informazioni a distanza immediata d'altronde questo se no sarebbe incompatibile con la relatività ristretta e infine definire una teoria completa una teoria che possa descrivere tutti gli elementi di realtà fisica ma adesso andiamo a considerare uno stato entangled come quello che abbiamo visto precedentemente cioè ad esempio di un fotone di una coppia di fotoni che hanno polarizzazione opposta come quella prodotta nel fenomeno che abbiamo visto poco fa che si chiama la parametria non conversion allora io ho la sorgente un fotone viene mandato ad Alice e l'altro a Bob che decidono di fare delle misure di polarizzazione lungo degli assi che possono essere orizzontale verticale oppure inclinati di 45 gradi allora uno stato di questo tipo invariante per rotazioni quindi le polarizzazioni continuano a essere opposte qualunque inclinazione io dia gli assi allora se Alice misura nella base orizzontale verticale trova orizzontale sa immediatamente che il fotone di Bob sarà verticale o viceversa quindi senza interagire col sistema può attribuire una proprietà alla polarizzazione del fotone di Bob quindi secondo questa definizione la polarizzazione nella base orizzontale verticale è un elemento di realtà fisica ma se Alice decide di misurare nella base a 45 gradi accade esattamente lo stesso quindi anche la polarizzazione del fotone di Bob nella base a 45 gradi è un elemento di realtà fisica allora qual è il punto che in meccanica quantistica queste sono due osservabili incompatibili cioè quelle famose osservabili di cui abbiamo accennato all'inizio per cui non è possibile attribuire un valore allo stesso tempo ma allora la meccanica quantistica non è in grado di attribuire valori a tutti gli elementi di realtà fisica quindi Einstein Podolsky e Rosen dedussero da questo argomento che la meccanica quantistica non sia una teoria completa ma possa esistere una teoria più generale in cui i valori di questi elementi di realtà fisica siano dati da delle variabili a noi nascoste e di note si noti che non è un argomento assoluto è un'indicazione che Einstein Podolsky e Rosen portarono a queste conclusioni voglio ancora far notare nel discutere queste correlazioni in particolare queste misure sull'entanglement che per quanto queste misure permettano quando Alice effettua una misura sulla polarizzazione di dedurre immediatamente qual è la polarizzazione di Bob per quanto distanti siano i due sistemi ad esempio se io ho prodotto i due fotoni uno è restato qui sulla terra l'altro è andato su Alpha Centauri nel momento in cui Alice misura il suo fotone immediatamente collassa anche la funzione d'onda del fotone di Bob però questo tipo di misure non permette di trasmettere informazioni perché l'argomento in realtà intuitivamente è molto semplice se Alice e Bob a seconda della loro misura attribuiscono un valore 0,1 quello che Alice ottiene effettuando delle misure una sequenza quindi casuale di 0,1 quello che Bob ottiene in assenza di misure di Alice è di nuovo una sequenza casuale di 0,1 ma se Bob effettua le misure dopo che Alice le ha effettuate quello che lui osserve è sempre una sequenza casuale di 0,1 quindi Bob non ha nessun modo di acquisire informazione su quello che ha fatto Alice quindi non c'è trasferimento di informazione le due sequenze sono perfettamente correlate ma Bob e Alice lo scoprono solo se le confrontano quindi se trasmettono informazione in qualche modo quindi con luce e quindi senza violare la relatività ristretta questo può essere dimostrato in maniera rigorosa di nuovo un breve scursus matematico considerando per chi voi conosce la matrice densità le misure della meccanica quantistica sono dei proiettori se ignoro il risultato devo quindi sommare su tutti i possibili proiettori la matrice densità di cui dispone Bob quindi quella ridotta per Bob e la traccia sui gradi di libertà di Alice sfruttando le proprietà matematiche della traccia e dei proiettori quello che ottengo è che la matrice densità che descrive lo stato di Bob è uguale sia che Alice abbia fatto la misura sia che non l'abbia fatta e quindi Bob non è in grado di acquisire informazione su ciò che ha fatto Alice quindi non c'è modo di trasmettere informazione grazie a queste correlazioni allora questo è un teorema dimostrato di nuovo da Ghirardi Rimini e Weber nell'80 ed ci dà quindi una compatibilità fra meccanica quantistica e relatività ristretta perché queste correlazioni quantistiche non permettono di trasmettere informazione a velocità superluminale resta però questa non località cioè il fatto che il misurare un osservabile di uno stato entangled da parte di Alice immediatamente collassa anche l'osservabile del corrispondente al sistema che ha Bob indipendentemente dalla distanza allora ritornando all'argomento quindi suggerito da Einstein può quindi esistere una teoria più generale della meccanica quantistica in cui le osservabili sono fissate a dei valori ben precisi da delle variabili nascoste che noi ignoriamo e in cui quindi l'evoluzione probabilistica della meccanica quantistica deriva da una nostra ignoranza di queste variabili e non da una proprietà della natura in linea di principio sì ovviamente se fosse così non ci sono più problemi col gatto perché il sistema quantistico era in un valore ben preciso sin dall'inizio così quindi l'apparato di misura e così anche il gatto ma quello che è interessante è che nel 64 John Bell dimostrò che qualsiasi teoria variabile nascosta locale quindi qualsiasi estensione della meccanica quantistica in cui i valori dell'osservabile siano fissati da delle variabili di tipo classico e in cui non ci sia comunicazione a distanza non può riprodurre tutti i risultati della meccanica quantistica in particolare quando vado a fare misure su sistemi intanti quindi è un teorema di un'estrema generalità permette di confrontare la meccanica quantistica nella sua formulazione standard con un'intera classe di teorie con qualsiasi estensione di tipo classico deterministico della meccanica quantistica quello che è interessante è che questo teorema può essere veramente dimostrato con due righe quindi un altro breve scursus si tratta di fare delle misure di correlazione quindi della probabilità di ottenere il valore di due osservabili in maniera congiunta ad esempio θ1 o θ2 potrebbero essere l'angolo dei due polarizzatori messi sul cammino dei due fotoni intangled che abbiamo visto precedentemente e si considera questa diseguaglianza allora se ho una teoria variabile nascosta la probabilità che il fotone venga passi quindi il polarizzatore inclinato di un angolo θ è dato dalla probabilità che lo passi per un certo valore della variabile nascosta per la densità di probabilità di questa variabile la probabilità congiunta similmente ma dato che la teoria deve essere non locale la probabilità quindi di passare il test da Alice o da Bob deve fattorizzare in due probabilità disgiunte ora consideriamo questa diseguaglianza algebrica dove x, x primo y, y primo possono assumere un valore tra 0 e 1 proprietà naturalmente verificata per le probabilità che sono sempre limitate tra 0 e 1 e andiamo a raccogliere i fattori considerando il caso x maggiore di x primo posso raccogliere in questo modo e di qui si vede subito che questa è sempre minore di 0 poi considero il caso x minore di x primo raccolgo in maniera diversa e di nuovo vedo che questa quantità algebrica è sempre minore di 0 quindi questa quantità è sempre minore di 0 allora questa quantità sostituendo probabilità è esattamente la diseguaglianza che abbiamo visto precedentemente allora se ho una teoria variabile nascoste e faccio misure di probabilità congiunta tra i due sottosistemi queste devono sempre verificare questa diseguaglianza che è un esempio di diseguaglianza di Pell ebbene se considero invece la meccanica quantistica posso vedere che per dei fotoni in tangled come quelli che abbiamo visto precedentemente questa diseguaglianza viene violata allora si può fare un test sperimentale una verifica sperimentale che permette di discriminare fra la versione standard della meccanica quantistica e qualsiasi teoria variabili nascoste locale questi esperimenti sono stati fatti già nell'82 si sono raggiunti dei primi risultati di violazione però con un'efficienza allora bassissima restava quindi dei problemi statistici che poi sono stati superati pochi anni or sono in due esperimenti del gruppo di Zeilinger e di Quiat che hanno dimostrato che effettivamente queste diseguaglianze sono violate al di là di qualsiasi dubbio allora questo esclude definitivamente una teoria a variabili nascoste più generale della meccanica quantistica allora esclude una teoria a variabili nascoste locale quindi avrò in qualsiasi potrò ancora avere un'estensione della meccanica quantistica deterministica ma questa dovrà avere delle proprietà fortemente non classiche ad esempio essere non locale allora finora ho descritto quindi questa prima parte di questo seminario queste bizzarre proprietà dei sistemi quantistici le loro implicazioni a livello anche proprio epistemologico di interpretazione della realtà quello che è curioso è che negli ultimi vent'anni sostanzialmente queste proprietà di correlazione dei sistemi quantistici anche abbastanza bizzarre sono diventato uno strumento per fare nuove tecnologie qui faccio vedere il numero di articoli pubblicati in queste nuove tecnologie nel corso degli anni come vedete sostanzialmente erano pochi articoli prima degli anni novanti poi c'è stata una crescita esponenziale adesso ci sono migliaia di articoli ogni anno quindi c'è stata un'esplosione di interesse questo è derivato proprio dalla possibilità che nel corso degli anni novanti è diventato possibile manipolare il singolo fotone il singolo elettrone il singolo atomo e quindi andare a utilizzare queste proprietà piccoliari dei sistemi quantistici allora una di queste prime tecnologie sostanzialmente la prima essersi sviluppata è l'idea di utilizzare queste proprietà dei sistemi quantistici per codificare trasmettere ed elaborare l'informazione la cosiddetta informazione quantistica così come l'informazione classica può essere codificata in un sistema binario di bit 0 1 posso pensare di usare un sistema quantistico a due livelli qualsiasi attribuendo il valore zero al primo livello e il valore uno all'altro livello quello che differenzia un quantum bit da un bit classico è che il quantum bit come abbiamo visto può essere in una sovrapposizione qui è scritto in maniera vettoriale quindi mentre il classico bit classico ha valore 0 1 il quantum bit considerato che a e b possono essere numeri complessi è rappresentato quindi come un punto su una sfera e posso avere tutte le possibili sovrapposizioni questa proprietà permette in realtà di superare quelli che sono i limiti del modo di elaborare codificare e trasmettere l'informazione ai sistemi classici e ha portato alla cosiddetta idea di un calcolatore quantistico in realtà se guardiamo il ridursi di numero di elettroni per device nel corso degli anni questo è andato sostanzialmente diminuendo in maniera esponenziale questo è un grafico logaritmico e siamo adesso arrivati sostanzialmente in questi anni al limite di avere quasi un elettrone per device quindi stiamo arrivando ai limiti della tecnologia attuale però quindi questa crescita del potere di calcolo che quelli della mia generazione hanno visto passare dai computer enormi degli anni della nostra giovinezza in cui poi iniziavano a apparire i primi personal computer con 20 kilobyte 64 kilobyte sino arrivare oramai ai gigabyte di un semplice telefonino questo progresso esponenziale della potenza di calcolo e di memoria sta arrivando in qualche modo al suo limite però il fatto di avere poi il singolo elettrone per device ci dice anche che dovremmo trattare in maniera quantistica questi dispositivi e la meccanica quantistica ci dà appunto nuove possibilità di calcolo in sostanza quando io considero cos'è un calcolatore io ho un registro su cui applico un operatore che effettua una forma di elaborazione se io considero come registro un sistema quantistico questo può essere in uno stato sovrapposto in particolare se ho molti quantum bit questo può essere uno stato entangled e l'operatore agirà parallelamente su tutte le componenti di questo stato questa forma di parallelismo non è assolutamente assimilabile al parallelismo di diversi calcolatori classici che elaborano qualcosa allo stesso tempo come capita già con computer paralleli e porta in alcuni tipi di algoritmi a un'efficienza di calcolo estremamente più elevata il vantaggio diventa di tipo esponenziale in particolare l'esempio più noto è quello della fattorizzazione dei numeri primi ora fattorizzare un numero piccolo è molto facile lo possiamo fare anche a mente 100 5 per 5 per 2 per 2 ma quando il numero di cifre cresce l'unico modo che ha un calcolatore per trovare i fattori è sostanzialmente di provarli tutti finché non li trova una procedura estremamente inefficace che porta per un numero di 100 cifre tempi di calcolo di 10 alla 40 secondi notate che la vita dell'universo è di 10 alla 18 secondi per un processore da 10 giga quindi per un numero di 100 cifre è sostanzialmente impossibile effettuare la fattorizzazione e queste difficoltà di calcolo sono proprio usate ad esempio per creare dei sistemi crittografici ebbene un calcolatore quantistico avrebbe un vantaggio di tipo esponenziale un calcolo di questo tipo verrebbe effettuato in pochi secondi quindi non sarebbe un vantaggio di avere un calcolatore che funziona due volte tre volte dieci volte più rapidamente funzionerebbe in maniera esponenzialmente più rapida cioè 10 alla 40 secondi diventerebbero 40 secondi allora è chiaro che quindi in questo tipo di calcolo un calcolatore quantistico sarebbe estremamente efficace e tra l'altro permetterebbe di rompere i codici crittografici attualmente utilizzati allora come giusto quali sono gli elementi base di un calcolatore quantistico devo avere quindi delle differenti porte logiche a 1 o 2 qubit ad esempio questa è la corretta porta di adamart che agendo su un qubit 0 la trasforma in questa sovrapposizione sul qubit 1 sulla sovrapposizione col segno scambiato ci sono altre possibili porte che sostanzialmente coincidono con le matrici di paoli un numero limitato di porte a single qubit basta assieme a una singola porta a 2 qubit per costruire qualsiasi algoritmo questo è stato dimostrato e ovviamente ci permetterebbe di costruire quindi un calcolatore quantistico universale con poche porte a singolo qubit più una singola porta a 2 qubit quale il controlled note che sostanzialmente cambia il valore del secondo qubit se il primo è 1 o lo lasci invariato se il primo è 0 questo è un tipico esempio di un semplicissimo circuito quantistico in cui applico la porta di adamart al primo qubit di un sistema a 2 qubit poi un c-note e a seconda dell'input dei 2 qubit costruisco tutti questi stati entangled l'algoritmo di fattorizzazione dei numeri primi è anche espresso quindi in termini di un circuito quantistico più complicato che coinvolge porte a singolo qubit e a 2 qubit ora quindi c'è una forte interesse a costruire un calcolatore quantistico ma qual è il sistema fisico su cui farlo ovviamente in linea di principio qualsiasi sistema a 2 livelli permette di codificare in quantum bit in qubit devo scegliere il migliore qui era una doxa fatta fra degli studenti di Caltech che alla domanda qual è il mio qubit favorito andavano dall'elettrone al fotone a oggetti molto più esotici quali gli anioni non abegliani ma vediamo quali sono le attuali linee di ricerca una possibilità sono gli ioni intrappolati che vengono quindi intrappolati in un campo magnetico e poi si agisce su questi ioni o con dei laser o facendoli interagire tramite fononi la NMR anche la normale risonanza magnetica nucleare è stata considerata però ha dei problemi per cui non starò a entrarvi adesso un'altra possibilità è quella data dei sistemi a stato solido il problema dei sistemi quantistici è che appena interagiscono con l'ambiente queste correlazioni vanno in qualche modo distrutte io invece le voglio preservare l'unico modo di farlo per i sistemi a stato solido dove gli elettroni interagiscono fortemente ad esempio in un conduttore con l'ambiente è quello di portarsi a bassissime temperature avere dei superconduttori quindi si stanno considerando la costruzione di computer quantistici basati sui superconduttori e infine c'è la possibilità di sfruttare i fotoni con dei circuiti ottici qui quello che è difficile è fare interagire i fotoni fra di loro il fotone non interagisce sostanzialmente con un altro fotone posso però utilizzare dei metodi probabilistici che portano a delle porte che hanno un successo con una certa probabilità e si può vedere che anche così si può costruire un calcolatore allora tra quanto disporremo di un calcolatore quantistico dobbiamo distinguere tra due possibilità uno è un calcolatore quantistico fatto per simulare alcuni algoritmi ben precisi ad esempio uno dei problemi della chimica e che non sono so benissimo che le molecole sono descritte dalla meccanica quantistica ma non sono in generale in grado di descrivere le interazioni fra molecole facendo dei calcoli perché sono troppo complessi e richiederebbero tempi di calcoli enormi quindi in chimica procedo ancora in qualche modo a tentoni se voglio testare un catalizzatore devo costruire l'apparato metterci questo catalizzatore e vedere cosa succede ovviamente tutto ciò è estremamente costoso se potessi simulare al calcolatore l'evoluzione dei sistemi chimici sarebbe un grosso vantaggio allora il calcolatore quantistico ovviamente utilizzando sistemi quantistici è la macchina più adatta per fare questo tipo di simulazioni e ci sono già alcuni progressi in questo senso quindi potrei costruire dei calcolatori quantistici fatti non come calcolatori universali in grado di fare qualsiasi algoritmo ma costruiti in maniera specifica per simulare l'evoluzione di alcuni sistemi ad esempio in chimica e questi in qualche modo stanno già iniziando a emergere tuttavia anche il calcolatore quantistico universale sta procedendo a passi da giganti nel 2017 IBM annunciava di avere un calcolatore quantistico a 10 cubit pochi mesi dopo era già arrivata a 20 cubit e attualmente nel 2019 è arrivata a 53 adesso ha superato i 60 cubit si noti che un calcolatore quantistico con circa 100 cubit già avrebbe un grosso vantaggio su alcuni tipi di algoritmi rispetto a un calcolatore di tipo classico e già questi calcolatori a 50 60 cubit sono adesso accessibili al pubblico tramite internet e possono essere utilizzati ad esempio per fare simulazioni di sistemi quantistici quindi in qualche modo del calcolatore quantistico già esiste e passato in pochi anni da 10 a 60 cubit quando riuscirà a superare i 100 superando anche alcuni diciamo ancora adesso di imperfezioni avrà un grosso vantaggio sui calcolatori classici per alcuni algoritmi e il lavoro non è solo l'IBM ma molte grandi compagnie stanno investendo in questo senso Zalonewell e varie altre i cinesi hanno già addirittura costruito sistemi didattici a pochi cubit molti sono basati sui superconduttori altri sugli ioni Google sta investendo ad esempio invece su quelli ottici e così via quindi il calcolatore quantistico esiste già non è ancora diciamo uno stadio da essere veramente utile ma non è molto lontano da avere calcolatori quantistici che poi potranno essere utilizzati ad esempio in internet e permetteranno di avere dei vantaggi computazionali estremamente grandi su alcuni tipi di protocolli allora tra i protocolli che abbiamo tra diciamo possibili calcoli che un calcolatore quantistico potrà fare c'è la fattorizzazione dei numeri primi e questo ad esempio romperebbe i codici criptografici attuali quindi in qualche modo il calcolatore quantistico creerebbe un problema ma come vedremo adesso nei prossimi minuti la meccanica quantistica offre anche una soluzione cioè se oltre a codificare l'informazione in sistemi quantistici la trasmetto anche l'informazione con i sistemi quantistici posso farlo come vedremo in maniera sicura assolutamente sicura dove la sicurezza non è più dettata da qualche difficoltà computazionale ma dalle leggi della fisica questa si chiama la criptografia quantistica ovviamente se quando si tratta di elaborare l'informazione il sistema quantistico non è così ben definito abbiamo visto diverse possibilità per la comunicazione il sistema è ovvio utilizzerò fotoni perché il fotone può essere propagato a grandi distanze posso usare le reti di fibre ottiche esistenti eventualmente lo posso propagare anche in spazio aperto si propaga la velocità della luce e così via allora come dicevo uno dei primi protocolli di comunicazione quantistica anche quello forse con maggiore applicazioni pratiche immediate sarebbe la criptografia quantistica come vi dicevo il calcolatore quantistico sta arrivando già un paio di anni fa l'N6 ha detto che in una delle sue comunicazioni che è necessario iniziare a considerare comunicazioni sicure ad algoritmi di carattere quantistico allora una di queste possibilità è offerte proprio dalla meccanica quantistica semplificando un poco come allora il metodo sicuro per trasmettere le informazioni in maniera classica è di disporre di una chiave criptografica quindi di una serie di 0 e 1 che combino col mio messaggio trasmetto a Bob se Bob dispone della stessa chiave è in grado di decodificare il messaggio se la chiave è lunga quanto il messaggio ed è casuale si può dimostrare matematicamente che non c'è nessuna possibilità di decodificare il messaggio senza disporre della chiave il problema a questo punto diventa di disporre di chiavi tra Alice e Bob sufficientemente lunghe per trasmettere dei messaggi arbitrariamente lunghi allora il problema diventa quindi quello di trasmettere la chiave allora l'unico modo per farlo è quello di avere una valigetta con un signore che porta la chiave che ovviamente non è il modo più sicuro in meccanica quantistica posso però farlo sfruttando proprio le proprietà che abbiamo visto cioè se io ho dei fotoni entangled e Alice e Bob fanno misure su basi differenti quando adottano la stessa base ottengono lo stesso risultato e quindi possono costruire una chiave sfruttando queste correlazioni quello che è importante è che perché questo metodo di trasmissione della chiave è sicuro perché l'unico modo che l'intercettatore ha di determinare lo stato del sistema è fare una misura ma la misura collassa il fotone in una dei due quantum bit e se ho sbagliato base mi darà quindi un risultato sbagliato l'altro punto fondamentale è che non si può copiare un sistema quantistico cioè non esiste una fotocopiatrice quantistica quindi l'intercettatore non ha nessuna possibilità di determinare lo stato senza collassarlo né di copiarlo di nuovo facendo un breve scursus matematico questa impossibilità di clonare il sistema deriva dal fatto che significerebbe avere il mio sistema in due possibilità diverse lo voglio copiare su un sistema inizialmente indicizzato ad esempio come zero e in meccanica quantistica questo significa applicare una trasformazione unitaria che mi trasforma u psi zero psi uno in una coppia di psi uno con psi uno stessa la stessa cosa deve valere per psi due ma dato che questa è una trasformazione unitaria questo significa facendo il prodotto scalare dei due termini che il prodotto scalare dei due stati deve essere uguale al modulo quadro del prodotto scalare e questo avviene soltanto se i due stati sono uguali o se sono ortogonali quindi non esiste un quantum clonar universale adesso lasciando questo escursus matematico questi sistemi quindi di trasmissione crittografica sarebbero importanti in realtà sono già stati realizzati e alcuni anni or sono è già stato dimostrato che si può trasmettere l'entanglement ad esempio tra due telescopi uno alla spalma e l'altra a Tenerife a 140 chilometri di distanza è stato dimostrato che si può fare comunicazione in fibra almeno su 100 chilometri e in effetti abbiamo già addirittura i sistemi commerciali di di criptografia quantistica se volete spendere 100.000 euro potete comprare questo sistema e nessuno sarà più in grado di sapere cosa dite ai vostri amici si stanno costruendo dei sistemi su lunga base anche in Italia e nel 2016 i cinesi hanno lanciato un primo satellite per fare comunicazione criptografica quantistica su base intercontinentale quindi la criptografia quantistica è già una realtà viene già usata ad esempio dai militari la Nato ha sviluppato dei protocolli specifici anche se non si sa ovviamente esattamente in che forma si sa che Pentagono e Casa Bianca sono connessi da un sistema criptografico quantistico il punto è se avrà poi anche un impatto commerciale ovviamente in giorni in cui il colcolatore quantistico sarà effettivamente sviluppato e romperà i codici criptografici attuali i sistemi criptografici quantistici potrebbero assumere una grande importanza ovviamente se al posto di venderne poche decine all'anno ne venderò milioni il prezzo crollerà e quindi alcune compagnie quali Toshiba o Huawei o altre stanno investendo su questi sistemi un giorno quindi posso immaginare lo sviluppo di un quantum internet in cui i calcolatori quantistici saranno connessi da canali quantistici di comunicazione con dei ripetitori quantistici e così via ma questo ovviamente è in un futuro avvenire ma adesso prima di concludere vi accenno ancora rapidamente ad alcune altre applicazioni anche più futuribili o più curiose di queste correlazioni quantistiche di queste comunicazioni quantistiche allora la comunicazione quantistica non permette non soltanto di fare comunicazioni sicure ma anche di realizzare protocolli non possibili con sistemi classici tra cui il famoso protocollo di teletrasporto che alcuni anni fa ebbe una certa risonanza ma prima di tutto dobbiamo dire cosa si intende per teletrasporto tra i fisici non è il teletrasportare Spock ma è il fatto di avere un sistema quantistico ignoto come abbiamo detto non c'è modo se io ho un unico sistema di determinare come sia perché se io cerco di misurarlo terro zero con una certa probabilità modulo di A quadro e uno con probabilità modulo di B quadro ma non riesco a stabilire A e B quindi a determinare il sistema quello che però posso fare se dispongo di uno stato entangled è di distruggere il sistema nel laboratorio di Alice ricrearlo uguale nel laboratorio di Bob senza determinare quale questo stato sia e questo è il cosiddetto teletrasporto quantistico quindi l'idea è che io dispongo di uno stato entangled di uno stato ignoto Alice compie la misura dello stato ignoto congiunta con una componente dello stato entangled trasmette il risultato della misura a Bob Bob agisce sulla sua componente dello stato entangled e ricrea lo stato ignoto nel suo laboratorio quindi complessivamente ho trasferito non della materia ma dell'informazione in qualche modo quindi ho ricreato lo stato ignoto distrutto nel laboratorio di Alice e nello stato nel laboratorio di Bob questo è stato fatto effettivamente con i fotoni il sistema è dato da questo semplice circuito quantistico quindi ho il mio stato ignoto questo interagisce con un c-not con lo stato entangled e mi crea questa correlazione Alice misura i suoi due fotoni o comunque quantum bit quindi trova 00 01 11 o 10 trasmette l'informazione a Bob Bob ha questa sovrapposizione a seconda di quello che ha ottenuto Alice quindi se Alice ha ottenuto 00 ha già lo stato giusto se ha ottenuto 01 con una semplice trasformazione trasforma questo stato in quello giusto e così via questo come vi dicevo è stato fatto in due esperimenti già alcuni anni or sono sia dal gruppo di Roma del professor De Martini che da quello di Vienna del professor Zeilinger con fotoni più recentemente si è arrivati a teletrasportare anche un numero consistente di atomi non come materia ma si è ricreato lo stato di un certo numero di atomi misurato con un sistema entangled in un laboratorio in un altro laboratorio quindi non si è ancora trasferito Spock ma in linea di principio se Spock è un sistema quantistico estremamente complesso in un futuro remoto potrebbe essere non teletrasportata la materia di Spock ma l'informazione che permette di ricostruire la funzione d'onda che descrive Spock tornando invece a diciamo protocolli di interesse più immediato i sistemi quantistici e in particolare le proprietà dei sistemi quantistici ottici permettono anche di andare a fare misure più precise in particolare nel campo dell'imaging e qui è dove diciamo il mio gruppo ha dato un contributo più significativo ad esempio uno dei protocolli è il cosiddetto ghost imaging qui l'idea è quella quindi di voler fotografare un oggetto però non si fotografa nella direzione dell'oggetto ma si fotografa dove l'oggetto non c'è e si ottiene ugualmente un'immagine dello stesso detto così appare un po' un'idea magica l'idea qual è io ho di nuovo un sistema entangle di fotoni uno è indirizzato all'oggetto ma poi perdo completamente l'informazione a causa ad esempio di un mezzo diffusivo il fotoni correlati invece e quindi alla fine non faccio una ricostruzione dell'immagine ma raccolgo tutta l'informazione in un singolo pixel il fascio correlato invece è mandato a una telecamera allora correlando quello che si osserva sul fascio correlato con quello che si osserva su questo singolo pixel si riesce ugualmente a ricostruire l'immagine e questo è il cosiddetto ghost imaging la luce quando è vista in tempi estremamente brevi ad esempio la luce di una lampadina ha questa struttura a macchie quindi questa idea può avere varie applicazioni in particolare quando si vuole fare imaging attraverso un mezzo turbolento o attraverso un mezzo diffusivo ad esempio la nebbia o in situazioni di criogenia come imaging di domini magnetici e così via quindi è una tecnica che si sta avvicinando ad applicazioni un'altra tecnica che abbiamo realizzato la prima volta nei nostri laboratori è di sfruttare queste correlazioni quantistiche per osservare in questo caso nel numero di fotoni per osservare oggetti su tempi molto brevi a livelli di illuminazione bassi allora cosa succede supponiamo di avere un oggetto ad esempio questa era una deposizione quasi monatomica che raffigurava un pi greco e di illuminarli brevemente con una luce non troppo intensa allora questa luce è rumorosa e quindi a un certo livello di illuminazione nell'immagine dell'oggetto è completamente persa in questo rumore ora nel sistemi quantistici in cui si ha un entanglement nel numero di fotoni quindi quello che succede è che posso misurare il rumore su un lato e andarlo a sottrarre esattamente dall'altro e questo quindi permette di ricostruire l'immagine eliminando il rumore quindi andando sotto quello che classicamente viene chiamato lo shot noise qui potete vedere il primo quantum movie a destra l'immagine quantistico confrontato con due immagine classici a sinistra si noti come l'oggetto in movimento possa essere visualizzato solo nel caso quantistico la stessa idea può essere stesa ad esempio a quello che è il cosetto quantum radar cos'è un radar? un radar è un fascio che viene inviato a un oggetto che devo riconoscere dal fascio che mi torna indietro però posso avere un fondo ambientale o anche introdotto per nascondere l'oggetto e se io non voglio essere scoperto e quindi illumino debolmente l'oggetto a un certo punto non sono più in grado di discriminare la sua presenza a causa del rumore allora quello che è stato dimostrato teoricamente poi sperimentalmente nei nostri laboratori è che sfruttando le correlazioni quantistiche di nuovo ha un vantaggio esponenziale nell'identificazione di questo tipo nell'identificazione di oggetti in questa situazione rumorosa e questo può portare alla realizzazione di un quantum radar ora adesso penso di avervi già fornito anche fin troppe informazioni forse è ora di giungere a una conclusione ci sono varie altre possibilità in cui sfruttare queste proprietà peculiari dei sistemi quantistici si va da interferometri più precisi ad esempio già adesso gli interferometri che cercano le onde gravitazionali utilizzano della luce quantistica per migliorare le prestazioni si possono compiere misure di vario tipo più precise anche a livello biofisico in cellule e così via quindi il messaggio che spero di avervi trasmesso è che appunto la meccanica quantistica è la teoria fisica fondamentale le sue proprietà portano una rivoluzione in qualche modo copernicana del nostro modo di pensare l'universo evolve in maniera probabilistica non posso più determinare esattamente l'evoluzione del sistema o prima della misura le proprietà dei sistemi non sono definite o questa non località quantistica o queste dovute a queste strane correlazioni che si sviluppano fra i sistemi quantistici quindi ho tutte queste proprietà peculiare che portano anche a dei paradossi però queste proprietà recentemente sono anche diventate dei strumenti per creare nuove tecnologie che sono quelle di cui vi ho parlato nella seconda parte di questo seminario e per concludere questo può essere anche in qualche modo un esempio di come la ricerca curiosity driven che è quella che ha condotto i fisici quantistici negli anni scorsi possa essere più efficace per arrivare alla soluzione di quella goal oriented che invece talvolta piace tanto ai nostri decisori politici se volete approfondire questi argomenti troverete alcune indicazioni sia di articoli di rassegna quindi un pochino più tecnici e poi vi ho indicato anche uno dei molti libri divulgativi questo è stato scritto da Anton Zeilinger che come vi dicevo è stato uno dei padri di queste nuove tecnologie e quindi ha descritto quello che io oggi vi ho raccontato in questo libro grazie per l'attenzione arrivederci grazie a tutti 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 grazie a tutti